L'importante riunione del Consiglio Comunale di Guardavalle con importanti punti relative anche alle tasse. Siamo con il Vice Sindaco Giuseppe Caresto. Com'è andata la riunione? Oggi abbiamo fatto questo Consiglio Comunale considerato che c'era una scadenza del 10 settembre appunto per deliberare la Tasi, la nuova imposta che è stata istituita per l'anno 2014. Quindi abbiamo approvato il regolamento Iucco che comprende le tre componenti Tasi, Tari e Imu. Il Comune di Guardavalle anche se si trova in una situazione di riequilibrio finanziario non abbiamo aumentato le tariffe, abbiamo confermato tutte le tariffe tranne che per la Tasi che abbiamo istituito soltanto per le prime abitazioni la liquida base. Quindi non abbiamo aumentato per le seconde abitazioni e per gli altri fabbricati. Quindi abbiamo cercato di non far gravare ulteriore tasse ai cittadini e per fare questo abbiamo dovuto tagliare le spese. Considerato la decurtazione da parte dello Stato dei trasferimenti di circa 100.000 euro, quindi cerchiamo di recuperare i 30.000 euro e i 40.000 euro dalla Tasi istituita per la prima abitazione e facendo un taglio sulle spese di circa 70.000 euro. Facendo così non riusciamo a mantenere sia gli equilibri di bilancio e sia non aggravare ulteriormente le tasche dei cittadini. Due posizioni diverse delle minoranze. Sì, abbiamo avuto una minoranza che si è comportata in modo diverso questa volta. Il capogruppo di Forza Italia ha votato favorevolmente questi punti all'ordine del giorno, tutti i punti all'ordine del giorno, mentre il capogruppo dell'Udc ha fatto un ragionamento non comprensibile in Consiglio Comunale, sapendo che lui essendo a conoscenza delle situazioni finanziarie del Comune in quanto è stata provocata sicuramente non da noi ma dall'amministrazione precedente dove lui ricopriva la carica di vice sindaco con una delega ai lavori pubblici. Ma nonostante ciò non si è reso conto della situazione in cui si trovi il Comune e ha votato contrario a tutti i punti oggetto del Consiglio Comunale. In particolar modo ha fatto una polemica nel senso che il Comune di Guardavalle, quindi il Consiglio Comunale, doveva ridurre le tasse non tenendo conto della situazione degli ultimi anni in cui, almeno da parte nostra, carichiamo la responsabilità all'ex amministrazione e quindi lui ricopriva la carica di vice sindaco e quindi anche lui con responsabilità non indifferenti per la situazione in cui hanno portato il Comune di Guardavalle dove noi con molta tranquillità e fermezza abbiamo annullato il dissesto, stiamo lavorando per avere un risanamento del Comune attraverso la procedura di riequilibrio e contiamo già dal 2015 addirittura di eliminare il piano di riequilibrio in quanto ormai non ci sono più le condizioni e quindi tornare in una situazione di normalità avendo una gestione più tranquilla e più ragionevole nei confronti della situazione finanziaria del Comune. Sindaco Penussia, nel suo intervento in Consiglio Comunale lei ha evidenziato pure come si sta muovendo la sua amministrazione riguardo ai finanziamenti che sono arrivati e stanno per arrivare. Sì è vero, oggi in Consiglio Comunale nel mio intervento ho comunicato a tutti i Consiglio Comunale e alla mineranza, ai cittadini che attraverso un lavoro importante siamo riusciti ad avere circa 200.000 euro per quanto riguarda il risparmio energetico sulle scuole. Abbiamo avuto un finanziamento di 122.000 euro per Guardavalle Centro per la scuola dove andremo a posizionare i pannelli fotovoltaici e più le pompe di calore, quindi andiamo a fare un risparmio notevole sui costi di gestione della grossa struttura che abbiamo in paese. Per quanto riguarda in Marina abbiamo avuto anche qua un finanziamento di 71.000 euro anche qua andremo a montare, a posizionare il fotovoltaico e quindi anche qua c'era un notevole risparmio. Ma non solo questo perché l'amministrazione comunale sta lavorando tutti i giorni per risolvere i problemi e soprattutto per fare questo cambiamento che tutti vogliamo. Abbiamo avuto anche un altro finanziamento di 230.000 euro da parte della Regione Calabria a lavori pubblici per andare a sistemare in modo definitivo tutta la zona centrale di Guardavalle Marina dalla stazione, via L'Europa, via Gullo, le traverse perché nell'inverno quando piove praticamente con le poche raccolte di scolo per le acque bianche e i sottoservizi praticamente si crea una marea veramente che è un rischio anche sulla 106. Noi su questa area abbiamo anche avuto nel 2001, quando ci sono state l'alluvione, anche abbiamo dovuto pagare come Comune dei risarcimenti d'anno appunto perché ci sono stati degli allegamenti nei magazzini e nei sottoservizi e quindi anche questo è un importante risultato che questa amministrazione ha portato a termine. Abbiamo anche comunicato che a giorni consegneremo i lavori per quanto riguarda sempre le scuole per 350.000 euro per la messa in sicurezza, quindi l'andremo anche ancora una volta ad abbellire tutte le strutture di Guardavalle e in più abbiamo anche avuto dal decreto Renzi Scuole Belle un finanziamento di 78.000 euro per andare un po' a rivoluzionare anche l'interno delle scuole, quindi banche, cattedre, armadi e tutto il resto. Quello che serve e che da tantissimi anni non viene fatto. Un impegno importante sulla scuola, sui nostri bambini perché questa amministrazione crede che il futuro arrivi proprio, passa dalla cultura, dallo studio e dall'intelligenza dei nostri bambini. L'intelligenza arriva proprio dalla scuola primaria. Noi puntiamo su questo, lo stiamo facendo e siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo.